Invece noi lo vanno in mondo visibile. Andiamo in mondo visibile, facciamo le nostre cacinerie. Andiamo in mondo visibile, facciamo le nostre cacinerie. Ecco, ma non c'hai una? Sì, per me pure mia mamma. La mamma... Non mi sento i miei aggis! Psssss! Ma cazzo fa buono che sei miei aggis, fa bene! Allora... Non c'è un po' di più, non c'è un po'. C'è un punto di informazione contro il governo. 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 Io voglio appoggiare, comunque si vanno a provare dei diassimici, cioè se esce e vece, la mangio, la possiamo più immaginare come qualcosa che noi possiamo tenere in casa, ma che verrà in casa, come la posso versare in casa, c'è capito? Cioè, come dire, ci sta una disegnazione di qualcosa che dobbiamo consumire, che poi non si è mai un uomo che sta esattando. Allora, questa è molto cosa, è un uomo che ci sta rigolando, perché crea una delle stesse parte, ma sta diventando un po' la riandita dalle buoniferie. Ma verrà, c'è, ci sono condizioni di gestione, sentiamo un giudizio, ci sono 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 un giudizio. Nyamane, non vanno a far temi rимiria, ci sono un giudizio, ci sono uguali, ci sono un giudizio, ci sono più diversi. C'ero uno, si tratta da un composto, c'era un giudizio, Grazie a tutti. 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 Facciamo. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.